Marino Occhipinti, uno degli ex poliziotti della banda 1 Bianca e condannato all'ergastolo per l'omicidio di una guardia giurata, è oggi un uomo libero. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che gli ha notificato il provvedimento che gli consente di uscire dal carcere di Padova, il suo pentimento è autentico, ha rivisitato in modo critico il suo passato e non è socialmente pericoloso. I parenti delle vittime della banda 1 Bianca esprimono il loro sconcerto e il loro dolore alla notizia della scarcerazione di Occhipinti. La banda 1 Bianca fa ancora male nel ricordo delle vittime. La storia di questa organizzazione criminale inizia nel giugno 1987 con una semplice rapina ad un casello autostradale e tutti i suoi componenti, tranne uno, erano membri della Polizia di Stato. Capo indiscusso della banda fu Roberto Savi, all'epoca capo della questura di Bologna. Suoi complici furono da subito i fratelli Alberto, poliziotto anche lui presso la questura di Rimini, e Fabio. Ai tre fratelli Savi, in momenti e con responsabilità diverse, si aggiunsero in seguito altri tre poliziotti, Piero Gugliotta, Marino Occhipinti e Luca Valdicelli. In circa sette anni e mezzo di attività criminale, la squadra ha causato 24 morti e 102 feriti. Dietro le violenze spietate è un motivo molto banale, i soldi. Sette anni di rapina ad uffici postali, supermercati, caselli autostradali, sempre a bordo di Fiat Uno Bianche, da cui il nome della gang. Il 1990 è segnato da episodi razzisti, per così dire, estranei alle logiche di Bottino che avevano caratterizzato le attività dei delinquenti fino ad allora. Fra questi l'assalto al campo nomadi di Santa Caterina IV nei pressi di Bologna. Tra le vittime dei carnefici ci sono tre giovani carabinieri nel gennaio 1991 a Bologna. È impressa nella memoria di tutti quella sera della cosiddetta strage del pilastro. L'organizzazione seminò il terrore in Emilia Romagna e nelle Marche fino al novembre 1994, quando venne arrestato Roberto Savi.